Ecco, siamo qui in Piazzato e Torri, tra mezz'ora inizio lo spettacolo, io mi sono improvvisato una specie di selfie barra, dovrei farlo vedere, ma sto usando un cavalletto manfrotto, anzi uno stativo manfrotto, una specie di stedicam della manfrotto. La stavo usando nel modo meno adatto possibile, cioè la stavo usando come appunto self stick, ma ovviamente non funziona molto bene. Beh, questa ripresa solo per far vedere che io sono qui a morire di freddo, aspettando di fare una ripresa per il video, che poi metterò online su YouTube. Questa è una prova, se funziona ne farò anche così stupide. Torri è bellissima, veramente, adesso si sente la musica, tra l'altro, fortuna vuole che usino musica non completa da copyright, perciò potrò metterlo su YouTube questo video. Già ieri ho messo un video sul centro commerciale, durante la visita per i giornalisti, sono entrato come ha detto stampa, riesco sempre a imbuccarmi, anche se ho la faccia da persona seria. Mi sono imbucato, mi hanno sgamato subito i giornalisti vedi, mi hanno detto che questo qui è arrivato sicuramente dall'ambiente di Facebook o di YouTube, però non mi importa, perché comunque sono riuscito a fare un bellissimo video, che ho postato, guardatelo, adesso lo spengo perché vedo che la batteria è già a metà. Ciao, quando inizia lo spettacolo ci si vede. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.